Non ti promettiamo che lui smetterà di sentirsi uno chef, ma promettiamo di aiutarti a digerire. Tutto? Biochetasi, digestione e acidità con enzimi, grazie alle componenti naturali, è un triplice aiuto in caso di pesantezza, gonfiore e acidità di stomaco. Proviamo a farla? Biochetasi, digestione e acidità, sempre pronto ad aiutarti.